Il cardinale Giuseppe Petrocchi ha rinunciato prima al suo ruolo di arcivescovo dell'Aquila, dando piena operatività dunque a Monsignor Antonio D'Angelo, che dunque è ufficialmente il nuovo arcivesco, finora coadiatore. D'Angelo dovrà nominare il vicario generale tra i papabili, c'è Don Carmelo Pagano Le Rose, sacerdote molto noto, cappellano della Polizia di Stato. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di Petrocchi a pochi giorni dalla fine del suo ministero all'Aquila, questo per consentire anche a Monsignor D'Angelo di avere piena titolarità per l'organizzazione della perdonanza celestiniana. Ci sono diversi appuntamenti e sfide fondamentali per la chiesa aquilana, compreso il grande giubileo di Roma del 2025. Arrivando all'Aquila, capitale della cultura, a 2026, Petrocchi sarà presente comunque all'apertura della Porta Santa per salutare la sua comunità. Il cardinale Petrocchi lascia all'arcivescovo D'Angelo un'eredità pesante, lo dico in senso naturalmente positivo. I prossimi due anni per l'Aquila e quindi anche per la dioce si saranno due anni importanti. Il 2025 è il giubileo che si apre a fine anno e il 2026 la città della cultura. Il cardinale Petrocchi ha costruito un percorso in questi anni, dalla visita del Papa, all'inizio del restauro del Duomo e se vogliamo anche al riordino dei conti della diocesi. Quindi per D'Angelo sarà una grande sfida e credo che con lui debbano essere non solo la diocesi ma tutta la città. Lui, il nuovo arcivescovo, dovrà essere capace di coordinare tutto il lavoro che girerà intorno al giubileo perché come sappiamo la bolla di indizione del giubileo cita Celestino Quinto e cita la perdonanza. Una grande occasione che non può essere sprecata. Sono state tantissime le reazioni alla nomina di D'Angelo a partire dal sindaco Biondi per arrivare a quella del presidente della regione Marco Marsilio ma anche tanti altri arcivescovi si sono congratulati per il percorso importante che ha fatto Petrocchi dando il benvenuto così a D'Angelo.